Non solo inquinamento e polveri sottili, a causare il surriscaldamento del pianeta ci si mette anche l'enorme consumo di energia elettrica dovuto all'uso di internet. A lanciare l'allarme la vicepresidente della Commissione Europea, Margherita Eveshtager, nell'ambito di una dichiarazione sulle conseguenze per i cambiamenti climatici. Secondo uno studio commissionato da un grosso fornitore di energia, piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Google e YouTube consumano circa 200 miliardi di kilowatt di elettricità all'anno in tutto il mondo, una cifra che corrisponde a circa il 40% dei requisiti della Germania. Nel 2018 i quattro giganti della rete hanno consumato un totale del 58% e la domanda di elettricità è destinata a crescere con il tempo. Tra i fattori principali, la comunicazione mobile e l'internet delle cose, una delle componenti della strategia di digitalizzazione dell'Unione Europea. Senza contare poi che con la nuova super rete veloce 5G la domanda e il consumo si triplicheranno entro il 2025, in pratica saranno quasi 3 milioni le persone che ne faranno uso, con conseguenze non tutte positive per il nostro clima.